molto molto contenta perché ho appena ricevuto questo pacco da parte di cipriani con i due ingredienti per fare il bellini che è una delle mie cose preferite oltretutto stanno anche per aprire il loro ristorante a milano quindi super excited sono sconvolta da quanto sono belle le cose organizzate così cioè adesso sono terrorizzata che tipo voglio che duri in casa mia diciamo questa cosa ma sono troppo belle guardando le mie magliette io sono molto fiera della mia collezione di magliette dei fratelli galantino una addirittura personalizzata veramente davvero fan del fruttivendolo farvi vedere come erika piega le magliette con il metodo con mari quindi di maricondo ok questo metodo qua cosa fa praticamente ti aiuta a sistemare a pacchetto i vestiti mette in verticale e così risparmi tantissimo spazio e poi vedi subito tutto quello che hai nel cassetto all'interno all'interno della scatola fantastico belle così piccoline tipicamente quando sono io a cercare di mettere in ordine diciamo non oserei dire organizzare il momento in cui mi scoccio e getto la spugna e lascio tutto per terra così per fortuna ci si è in questa volta portiamo a terra della box dopo aver pulito qua tutti i residui dopo aver passato il dyson ho trovato delle belle sorprese intanto la crema corpo di stress fix che la mia devo dire profumazione preferita di aveda perché alla lavanda è molto rilassante infatti questo è un ottimo prodotto ma in realtà tutti i prodotti stress fix sono fantastici poi ovviamente botanica repair shampoo e conditioner ma super sorpresa il codice sconto del 30 per cento su tutti i prodotti aveda fino al 18 di novembre quindi vi lascio qua il link per andare a visitare il sito di aveda sono escluse alcune cose tipo le confezioni viaggio ma il resto invece applicabile codice sconto insieme da stamattina siamo partiti il caffè il tè il pranzo siamo arrivati orario aperitivo esatto però lì dentro vi farò vedere domani col sole ho deciso perché c'è veramente un'opera d'arte praticamente qualche giorno fa in preparazione per montagna per l'inverno freddo in città calzedonia mi ha mandato queste calze e anche i calzini in cashmere blend sono morbide calde e hanno questa lavorazione particolare molto bella e comunque non perdono assolutamente di elasticità quindi sono molto comode queste qua l'altro giorno le ho messe a firenze invece adesso mi stavo provando queste qua color prugna con questi calzini metto intanto anche gli altri voilà ho fatto gli addominali anche oggi allora queste qua sono anche molto molto belle stupenda questa trama e poi ci ho abbinato questi calzini con questo pattern marroncino e azzurro molto cute questo pattern marroncino e azzurro molto bene questo pattern marroncino e azzurro molto bene questo pattern marroncino e azzurro molto bene questo pattern marroncino e azzurro molto bene